Quindi siamo arrivati al terzo episodio della lettura di Paolo Di Arcono, Storia dei Longobardi. Benvenuti innanzitutto. È una registrazione, non c'è stata nessuna live. Per il prossimo episodio che sarà, spero, giovedì prossimo, vale a dire Natale, non ci sarà neanche quella volta lì una live, ci sarà un'altra registrazione come questa. L'episodio di oggi è molto bello, una lettura che mi è piaciuta tanto e anche una serie di chicche e di miei commenti personali che sono incentrati con una cosa che sto leggendo di recente. Perché è anche questo che voglio trasmettere. Deve essere un viaggio alla scoperta di un libro che io non conosco, ma è il viaggio di un viaggiatore che qualche viaggio o qualche altro viaggio lo ha già fatto. Ed è bello immaginare di trovare una chiesa con dentro un affresco che ti ricorda un affresco che hai visto in un'altra chiesa tutta da un'altra parte. Raffascinante questa cosa, spero che potrete gradirla. Ci sentiamo per Natale, se non ci sentiamo per Natale vi faccio gli auguri adesso. Ciao! Inizio del libro secondo Mentre ovunque attorno risuonava la fama delle continue vittorie dei Longobardi, Narsete, cartulare imperiale che allora governava l'Italia, nel preparare la guerra contro Toti, la re dei Goti, dato che già in precedenza l'impero aveva avuto i Longobardi come federati, mandò ambasciatore ad Alboino perché gli mettessero a disposizione un corpo ausiliario per il momento in cui avrebbe attaccato i Goti. Allora Alboino inviò una scelta schiera dei suoi uomini, i quali portassero aiuto ai Romani nella guerra contro i Goti. Essi, passati in Italia attraverso il Golfo del Mar Adriatico, come alleati dei Romani, attaccarono battaglia contro i Goti. Sterminati lì assieme al loro re Totila, onorati con molti doni, ritornarono vincitori nella propria terra. Per tutto il tempo in cui i Longobardi tennero la Pannonia, furono d'aiuto alla Repubblica Romana contro i suoi avversari. In questo periodo Narsete condusse una guerra anche contro il duca Buccellino. Il re dei Franchi, Teodoberto, tornando in Gallia dopo la spedizione in Italia, ve l'aveva lasciato assieme a un altro duca, a Mingo, col compito di sottometterla completamente. Buccellino, dopo aver devastato con saccheggi quasi tutta l'Italia, aveva mandato al suo re Teodoberto ricchi doni, che erano parte del bottino, e mentre si preparava a passare l'inverno in campagna, vinto da Narsete in una dorissima battaglia in una località chiamata Tanneto, fu ucciso. Tentando poi a Mingo di portare aiuto a Windin, conte dei Goti, il quale si era ribellato a Narsete, l'uno e l'altro furono battuti dallo stesso Narsete. Windin, catturato, venne mandato in esilio a Costantinopoli. A Mingo, invece, che gli aveva portato aiuto, è ucciso dalla spada di Narsete. Un terzo duca franco di nome Leutario, fratello di Buccellino, mentre, carico oramai di molta preda, desiderava ritornare in patria, fra Verone e Trento, sulle rive del lago Benaco, morì di malattia. Ebbe a sostenere ancora Narsete una guerra contro Sindualdo, il re dei Breioni, superstite di quella stirpe di Eruli che Odoacre, quando era venuto in Italia, aveva portato con sé. A Sindualdo, che in un primo tempo gli era stato fedele alleato, Narsete aveva conferito molti benefici, ma alla fine, quando costui, preso dalla sua superbia e dalla mania di regnare, si ribellò, sconfittolo in battaglia e catturatolo, e catturatolo l'impiccò a un'alta trave. Sempre in quel tempo, il Patrizio Narsete, per opera di Degisteo, comandante dell'esercito, uomo forte e bellicoso, occupò tutti i territori dell'Italia. Questo Narsete fu dapprima cartulario, quindi, per i meriti acquisiti col suo valore, ottenne l'onore del patriziato. Era un uomo molto pio, di religione cattolica, generoso con i poveri, pieno di zelo nel restaurare le chiese, così fervente nelle veglie e nelle preghiere, che ottenne la vittoria più con le suppiche rivolte a Dio che con le armi della guerra. Ai suoi tempi, principalmente nella provincia della Liguria, scoppiò una gravissima pestilenza. All'improvviso, infatti, per le strade e per le porte, sui vasi e sui vestiti apparivano certe macchie e se qualcuno cercava di detergerle, spiccavano ancora di più. Trascorso un anno, nell'inguine degli uomini o in altre parti del corpo più delicate, cominciarono a spuntare delle ghiandole della dimensione di una noce o di un dattero e a esse veniva dietro un ardore di febbre intollerabile, tale che in tre giorni l'uomo moriva. Se qualcuno invece superava il terzo giorno, aveva speranza di sopravvivere. Ovunque lutti, ovunque lacrime. Infatti, poiché tra il volgo correva voce che chi fuggiva scampava alla morte, le case erano deserte, abbandonate dai loro abitanti e solo i cani le custodivano. Rimanevano soli nei pascoli i greggi senza pastore che vigilasse. Prima avresti visto villaggi e accampamenti pieni di schiere di uomini. Il giorno dopo, ogni cosa immersa in un silenzio profondo, perché tutti erano fuggiti. Fuggivano i figli lasciando insepolti i cadaveri dei genitori. I genitori, dimentichi di ogni senso di pietà, abbandonavano i figli che ardevano di febbre. Se l'antica pietà obbligava ancora qualcuno a cercare di dar sepoltura al prossimo, restava lui stesso insepolto. E mentre compiva l'opera pietosa, era tolto via dal male. Mentre offreva alla morte l'onore dovuto, la sua morte restava senza onore alcuno. Potevi vedere il mondo riportato al silenzio dalle sue origini. Nessuna voce nei campi, nessun fischio di pastore, nessuna insidia di fiere tra il bestiame, nessun danno per i domestici uccelli. Le mesi, che già avevano passato il tempo di essere ammietute, aspettavano intatte il mietitore. La vigna sulla quale cadute le foglie e le uve rosseggiavano, rimaneva illesa, mentre già si avvicinava l'inverno. Sia nelle ore del giorno che in quelle della notte, risuonava la tomba di guerra. Da molti si udiva come il fragore di un esercito. Nessuna traccia di viaggiatore, non si vedevano briganti, e tuttavia i cadaveri dei morti si estendevano più in là di dove poteva giungere lo sguardo. I luoghi dei pastori si erano trasformati in sepoltura d'uomini. Le abitazioni degli uomini erano divenute tane per le fiere. Eppure queste sventure toccarono ai soli romani, entro il solo territorio dell'Italia, fino ai confini con le genti Alamanne e Bavare. Mentre accadevano queste cose, morto Giustiniano, Giustino II assunse a Costantinopoli la direzione dello Stato. Sempre in questo periodo, il patrizio Narsete, il cui zelo vigilava su tutto, catturò Vitale, vescovo della città di Altino, che molti anni prima era fuggito ad Agunto presso il regno dei Franchi e lo condannò all'esilio in Sicilia. Quindi Narsete, distrutta o vinta come si è detto ogni stirpe dei goti e vinti nello stesso modo quei popoli di cui abbiamo parlato, dopo aver messo insieme molte ricchezze di oro, di argento e di ogni altra specie, suscitò grande invidia nei Romani, in favore dei quali tanto si era adoperato contro i loro nemici. Questi, in odio a lui, inviarono di nascosto a Giustino Augusto e a sua moglie Sofia questo messaggio. Ai Romani è più gradito essere schiavi dei goti che dei reci, dal momento che ci governa un eunuco Narsete e ci tiene oppressi in schiavitù. E il nostro pissimo principe ignora queste cose. Liberaci dalle sue mani o per certo consegniamo alla città di Roma e noi stessi ai pagani. Udito ciò Narsete rispose brevemente con queste parole se ho agito male con i Romani male ne avrò. Allora l'imperatore si sdegnò tanto contro Narsete che subito mandò in Italia come prefetto Longino che ne prendesse il posto. Conosciute queste cose Narsete fu preso da grande timore fu atterrito soprattutto dall'imperatrice Sofia tanto che non osò tornare a Costantinopoli. Fra l'altro si narra che l'imperatrice poiché era un eunuco gli avesse mandato a dire che gli avrebbe fatto dipanare le matasse di lana insieme alle ragazze del Gineceo. A queste parole Narsete avrebbe risposto così le odierò una trama che lei finché vivrà non se ne potrà liberare. Sconvolto dall'odio e dalla paura si ritira dunque a Napoli città della Campania e manda ambasciatori al popolo Longobardo invitandolo ad abbandonare le prove eretere della Pannonia per venire a conquistare l'Italia colma di ogni ricchezza e insieme invia molti generi di frutta e di altri prodotti di cui l'Italia è ferace perché possono invogliare i loro animi a venire. I Longobardi accolgono con riconoscenza quel messaggio lieto per essi e che da tempo desideravano e si infiammano d'ardire al pensiero dei vantaggi che sarebbero loro venuti. Subito in Italia di notte apparvero segni terribili spade di fuoco nel cielo corrusche di quel sangue che fu poi sparso. Alboino deciso a partire per l'Italia con i Longobardi chiese aiuto dei Sassoni i suoi vecchi amici per entrare in quella vasta regione col maggior numero di uomini possibile poiché intendeva conquistarla. E i Sassoni vennero da lui secondo la sua volontà più di ventimila uomini con le mogli e i bambini per muovere con lui verso l'Italia. Udendo ciò Clotario e Sigiberto re dei Franchi stanziarono gli svevi e altre popolazioni nelle terre delle quali erano usciti i Sassoni. Allora Alboino segnò le sue sedi cioè la Pannonia ai suoi amici unni naturalmente col patto che se dopo qualche tempo i Longobardi fossero stati costretti a tornarvi avrebbero ripreso di nuovo i loro campi. i Longobardi pertanto abbandonata la Pannonia con le moglie e i figli e ogni masserizia avanzavano in fretta verso l'Italia per stabilirsi. Avevano abitato la Pannonia 42 anni ne uscirono in aprile al tempo della prima indizione il giorno dopo quello santo di Pasqua che in quell'anno secondo i calcoli cadde il primo di aprile quando già erano trascorsi 568 anni dall'incarnazione del Signore. Quando dunque Re Albuino giunse ai confini dell'Italia con tutto il suo esercito e con una moltitudine di popolo promiscuo ascese un monte che si innalza in quei luoghi e di lì contemplò quella parte d'Italia fin dove poté spingere lo sguardo. Per questo motivo come si tramanda quel monte da allora fu detto del re. Dicono anche che su questo monte vivano bisonti selvatici. Non c'è da benavigliarsi dato che fino a qui si estende la pannonia e che di questi animali è assai ferace. Mi raccontò un vecchio assai degno di fede di aver visto su questo monte la pelle di un bisonte ucciso sulla quale come diceva potevano distendersi uno accanto all'altro ben 15 uomini. Di qui Albuino è entrato senza incontrare ostacoli di qualche conto nei confini della Venezia che è la prima provincia d'Italia cioè nella regione della città o per meglio dire della fortezza di Cividale del Friuli pensò a chi dovesse affidare quella prima provincia che aveva conquistato. Tutta l'Italia che si protende verso Mezzogiorno o meglio verso Sud-Est è circondata dai flutti del Mare Tireno e dell'Adriatico. A Occidente e a Settentrione è chiusa dai Giochi delle Alpi che non si può trovare un passaggio se non per strette gole o attraverso le Alte Cime dei Monti. Dalla parte orientale che la unisce alla Pannonia ha invece un valico più largo e assai gradevole. Come abbiamo detto al boino riflettendo su quale duca dovesse porre a governare quei luoghi stabilì di porre a capo di Cividale del Friuli e di tutta la sua regione come si tramanda su un ipote Gisulfo uomo abile in ogni cosa che era suo scudiero o come si dice nella loro lingua Mar Paihis Gisulfo disse che non avrebbe assunto il governo di quella città e di quel popolo se prima non gli fossero state assegnate quelle fare dei Longobardi cioè quelle stiapi e quei gruppi familiari che egli stesso avesse voluto scegliersi. Ciò fu fatto col consenso del re ed egli ricevette perché rimanessero con lui le più nobili casate dei Longobardi come aveva desiderato e così ottenne i titoli e gli onori di duca. Chiese pure mandre di cavalle di buona razza e anche in questo fu esaudito dalla generosità del sovrano. In questi stessi giorni in cui Longobardi invasero l'Italia il regno dei Franchi in seguito alla morte del re Clotario venne diviso in quattro parti dai suoi figli. Il primo di essi Ariperto ebbe la sua sede a Parigi il secondo Guntramno governava la città di Orléans il terzo il Perico aveva il trono a sua son dove era stato suo padre Clotario il quarto Sigiberto regnava nella città di Mez in questo stesso periodo reggeva la chiesa romana il Santissimo Papa Benedetto a capo della città di Aquileia e delle sue popolazioni era il beato patriarca Paolo questi temendo le barbarie dei Longobardi da Aquileia si rifugiò nell'isola di Grado e portò con sé tutto il tesoro della chiesa in quest'anno nell'intervento nell'inverno col quale era iniziato cadde in pianura tanta neve quanta di solito ne cade sulle cime delle Alpi poi nell'estate che lo seguì ci fu un raccolto così abbondante come non si ricordava ci fosse mai stato sempre in quel tempo avendo gli unni ossia gli avari saputo della morte di Reclotario attaccarono suo figlio Sigiberto affrontatili in Turinja Sigiberto li sgovinò presso il fiume Elba e su loro richiesta concesse la pace a Sigiberto fu data in matrimonio Brune e Childe che proveniva dalla Spagna da lei ebbe un figlio di nome Childeberto di nuovo gli avari affrontarono Sigiberto negli stessi luoghi in cui precedentemente si era combattuto e massacrato l'esercito franco ottennerò la vittoria Narsete è ritornato a Roma dalla campagna dopo non molto tempo morì il suo corpo posto in un'arca di piombo con tutte le sue ricchezze fu trasportato a Costantinopoli quando Albuino giunse dal fiume Piave gli venne incontro Felice vescovo della chiesa di Treviso a lui il re liberalissimo qual era concesse di conservare tutti i beni della sua chiesa e confermò le concessioni con una sua prammatica sanzione poiché abbiamo menzionato questo Felice ci piace aggiungere alcune poche notizie anche sul venerabile e sapientissimo Fortunato il quale afferma che Codesto Felice fu suo compagno il Fortunato di cui parliamo era nato in un luogo chiamato Valdo Biadene che non è molto lontano dal castello di Ceneda e dalla città di Traviso tuttavia fu allevato ed educato a Ravenna e divenne assai famoso nell'arte della grammatica nella retorica e anche nella medrica soffrendo di un fortissimo dolore agli occhi e avendo male agli occhi nello stesso modo anche il suo amico Felice si recarono insieme alla Basilica dei Beati Paolo e Giovanni posta dentro le mura della città presso un altare costruito in onore del beato Martino Confessore c'è una finestra sulla quale per far luce è posta una lampada con l'olio di questa Fortunato e Felice si unsero gli occhi dei malati subito sparito il dolore ottennero la guarigione che desideravano per questa ragione Fortunato venerò tanto il beato Martino che lasciata la patria poco prima che Longobardi invadessero l'Italia si recò a Tur a visitare il sepolcro del Santo come egli stesso ci riferisce nei suoi versi descrive il viaggio fatto per Carvisi attraverso le correnti del tagliamento Ragogna Osoppo le Alpi Giulie la fortezza di Agunto i fiumi Drava e Birro le terre dei Brioni la città di Augusta bagnata dal Virdo e dall'Eche dopo essere giunto a Tur secondo il suo voto passato per Poitiers vi si stabilì e scrisse le gesta di molti santi parte in prosa parte in versi in quella città fu ordinato prima presbitero quindi vescovo e ora vi riposa sepolto con degni onori qui scrisse la vita del Beato Martino in quattro libri di esametri e compose molti altri carmi in dolce e dottalingua specialmente inni sulle festività cristiane e versi per gli amici a nessun poeta secondo per la sua tomba essendomi recato là in pellegrinaggio su invito di apro abate di quel luogo ho composto questo epitafio chiaro d'ingegno vivace nel sentire soave nell'idioma la cui dolce melodia molte pagine fanno riudire fortunato cima dei poeti e venerabile negli atti nato in ausonia e sepolto in questa terra dalla sua bocca consacrata conosciamo le gesta degli antichi santi che ci avviano al cammino della luce beata Gallia fulgida di così preziose gemme alla cui luce per te fugge il buio della notte questi versi io piccolo ho scritto in un mille metro perché o santo fra i popoli non si è ignota la tua gloria e tu ricambia il misero per i tuoi meriti insigni implora beato il giusto giudice che non mi sdegni abbiamo volentieri accennato queste poche cose ad un così grande uomo perché i suoi concittadini non ne ignorino del tutto la vita ora riprendiamo il filo della nostra storia Alboino conquistò intanto Vicenza Verona e le altre città della Venezia tranne Padova Monselice e Mantua la regione dei Veneti infatti consta non solo delle poche isole che ora chiamiamo Venezia ma i suoi confini si estendono dai territori della Pannonia fino al fiume Adda ciò è comprovato dai libri annali dove si legge che la città di Bergamo appartiene a Venezia questa è una cosa pesanta e infatti anche del lago Benaco così leggeremo nelle storie Benaco è il lago della Venezia dal quale esce il fiume Mincio Eneti anche se in latino c'è una lettera di più che è la V in greco vuol dire degni di lode alla Venezia è unita anche l'Istria ed entrambe sono da considerare una sola provincia Paolo Diacono diventa un po' problematico qui cioè dopo lui nella giornata del ricordo sarebbe dalla parte dei fascisti cavoli l'Istria prende il nome dal fiume Istro nella storia romana si dice che essa fosse molto più grande di quanto non sia ora capitale della Venezia fu la città di Aquileia al posto della quale ora c'è Cividale del Friuli che si ritiene chiamata in questo modo perché lì Giulio Cesare aveva stabilito una piazza di Mercato in che sì perché evidentemente Forum Julio Mabeorum Nonibus Qui ha Forum Quarunt Forum Flaminion Civitale del Friuli Forum Friuli Non credo che ne sia fuori luogo accennare in breve anche alle altre province d'Italia La seconda provincia è la Liguria cosiddetta da leggere cioè raccogliere legumi di cui è molto ferace vi appartengono Milano e Ticino detto con altro nome Pavia Questa regione si estende fino ai confini della Gallia fra Liguria e la Svevia La patria cioè degli Alamanni che è posta a nord ci sono sulle Alpi poi due province la Rezia prima e la Rezia seconda nelle quali si sa che abitano appunto i reti Per quanto riguarda quella che noi chiameremo Lombardia che in realtà qui viene chiamata Liguria certo all'epoca non si poteva chiamare Lombardia perché Lombardia ovviamente deriva dai Longobardi e non essendoci ancora i Longobardi si chiama Liguria viene chiamata Liguria però anche all'interno di alcune narrazioni risalenti al XII secolo se non sbaglio male all'interno dei gesti friderici imperatori non so il latino probabilmente ho sbagliato comunque dei gesti friderici da parte di Ottone di Fresinga e appunto Lombardi per dire Lombardia viene utilizzata questa parola Liguri che sicuramente tradisce un'educazione classica simile se possiamo immaginare a quella di Paolo Diacono da parte di Ottone di Fresinga così un punto una curiosità la quinta provincia prende il nome dalle Alpi Cozzie chiamate così dal Re Cozio che visse al tempo di Nerone si estende a sud-est della Liguria fino al mare Tirreno ed è delimitata occidente dai territori della Gallia in essa vi sono acqui dove si trovano le acque calde Tortona il monastero di Bobbio inoltre Genova e Savona la sesta provincia è la Toscana chiamata così da Tuss l'incenso che il suo popolo solleva superstiziosamente Bruciani si capisce le sue idee sarà un riferimento agli Etruschi anche questo cioè starà parlando degli Etruschi probabilmente questa regione a nord-ovest ha l'Aurelia a oriente l'Umbria in questa provincia si trova Roma che un tempo fu la capitale di tutto il mondo nell'Umbria che è pure posta in questa provincia si trovano Perugia il lago tre volte asterisco perché si chiama tre volte asterisco in ac provincia Roma quell'anun totius mundi caput extiti test constitute in Umbria vero qua istius in parte ponitur perusium et lacus clitorius spoletiumque constitum cioè il lago clitorio che è qui i codici hanno clitorius come più avanti c'è Verona al posto di Vetona è chiaro che il primo copista tende a sostituire un nome a lui poco noto con uno più noto clitorius il lago dell'Arcadia beh è una leggenda questo qui si è inventato il nome di un lago perché non conosceva il nome dell'altro lago grande grande spirito animale il primo copista complimenti l'Umbria è così chiamata perché scampò le piogge allorché uno sperimentoso diluvio devastò le popolazioni piogge che appunto in latino si dice Imbres quindi Imbres Umbra la settima provincia la Campania si estende dalla città di Roma fino al Sele fiume della Lucania in essa si trovano le ricchissime città di Capua Napoli e Salerno questa regione è chiamata Campania per la fertilissima pianura di Capua per il resto in massima parte montuosa l'ottava regione poi la Lucania che prende nome da Lucus un bosco sacro comincia dal fiume Sele insieme con la Bruzia così chiamata dal nome di una sua antica regina e si estende fino allo stretto di Sicilia lungo le coste del Martireno come le due precedenti tenendo il corno destro dell'Italia vi si trovano le città di Pesto Laino Cassiano Cosenza e Reggio Calabria Nona è compiuta è computata la provincia che si trova nelle Alpi Appennine le quali hanno inizio dove finiscono le Alpi Cozzie questi monti protendendosi attraverso l'Italia dividono la Toscana dall'Emilia e l'Umbria dalla Flaminia vi sono le città di Ferroniano Montebello Bobbio e Urbino e una cittadella che è chiamata Bettona le Alpi Appennine sono così chiamate dai Punici cioè da Annibale e dal suo esercito che muovendo verso Roma le attraversarono ci sono di quelli che dalle Alpi Cozzie e delle Appennine fanno una sola provincia ma li confuta la storia di Vittore che chiama le Alpi Cozzie provincia al sé la decima regione l'Emilia che comincia dall'Alliguria si estende fra le Alpi Appennine e il fiume Po fino a Ravenna è splendida di ricche città come Piacenza Parma Reggio Bologna il Foro di Cornelio la cui Rocca è chiamata Imola ci sono stati anche di quelli che hanno sostenuto che l'Emilia la Valeria e la Norcia formano una sola regione ma la loro opinione non può reggere poiché fra l'Emilia la Valeria e la Norcia ci sono la Toscana e l'Umbria mi pare che abbia senso questo ragionamento un dettaglio c'è un libro molto interessante che sto leggendo in questo periodo che si chiama Italica Gens memoria e immaginario politico dei cavalieri cittadini secoli dodicesimo e tredicesimo dove si parla a un certo punto dello spazio politico nella testa delle persone che scrivono di storia e quindi probabilmente di tutti i loro contemporanei stiamo qui sempre parlando del periodo dei Gesta Friderici Imperatoris e si sottolinea come la Lombardia fosse sia un modo per definire tutto quel territorio sotto il controllo più o meno diretto di Milano sia tutto quel territorio che includeva il regno di Italia tra virgolette settentrionale più o meno distinto dalla Toscana la Toscana veniva messa un po' da parte sempre facente parte del regno d'Italia ma tenuta in secondo piano rispetto alla Lombardia molto interessante è il fatto che in una cronaca in cui si parla dell'assedio di oh mio Dio non mi ricordo più se è Tortona o Milano si dice che ci sono credo che sia Milano Milano 1158 si dice che ci sono i fanti i soldati di Reggio e Modena che arrivano da lontano dalla Lombardia come a voler dire che il confine della Lombardia in realtà non è come descritto da Paolo Diacono quindi anche il confine che noi conosciamo oggi vale a dire al di sopra del Po ma le province tra virgolette di Piacenza e Parma fanno appunto da confine resta quella che viene chiamata Lombardia e immagino un'altra cosa che è un po' concepita come la Romagna o più probabilmente perché aveva più senso questo non è specificato proprio nel libro dovrei recuperare proprio quella narrazione in specifico più probabilmente la Toscana perché Reggio e Modena in realtà è probabile che a causa dei loro fortissimi intrallazzi con la Tuscia risultino in realtà più nella Toscana rispetto a una Ravenna che invece fa parte della Romagna della Romagna ovvero dell'antico esarcato è interessante vedere come il i confini spaziali comunque varino e abbiano differenti riferimenti perché anche qui c'è un l'iconfut alla storia di Vittore qui si parlava delle Alpicozie invece sembrerebbe che il considerare Lombardia anche Parma e Piacenza risultino in realtà risulti in realtà essere un procedimento mentale che fa dire Milano controlla ha un controllo egemonico anche in questa regione Piacenza e Parma di conseguenza Piacenza e Parma sono Lombardia Stefano sai chi sei se stai ascoltando hai vinto tu hai vinto tu ma Paolo Diacono dice il contrario proseguiamo ancora un po' l'undicesima provincia è la Flaminia che posta fra le Alpi Appennine e il Mar Adriatico che è posta fra le Alpi Appennine e il Mar Adriatico in essa c'è la più nobile delle città Ravenna e cinque altre città qui stiamo parlando appunto dell'esercato che con parola greca sono dette Pentapoli è nota che l'Aurelia l'Emilia e la Flaminia sono chiamate così dalle strade lastrecate che partono da Roma e a loro volta presero tali nomi da coloro che le hanno costruite dopo la Flaminia si incontra la dodicesima provincia il Piceno che ha a sud i Monti Appennini e dall'altra parte il Mar Adriatico questa regione si estende fino al fiume Pescara e vi si trovano le città di Fermo di Ascoli di Penna e di Adria ormai consunta dal tempo che hanno il nome che ha dato il nome al Mar Adriatico quando gli attuali suoi abitatori abitatori oddio perché quando gli attuali suoi abitatori ma ma scrivi abitanti quando gli attuali suoi abitatori si misero in cammino dalla Sabinia verso di essa un piccus cioè un picchio si posò sul loro vessillo e per questo prese il nome di Piceno la tredicesima provincia la Valeria qui annessa la Norcia si trova fra l'Umbria la Campania e il Piceno e a Oriente confina Colsagno a sua parte occidentale che inizia dalla città di Roma un tempo era detta Etruria dal popolo degli Etruschi comprende la città di Tivoli di Carsoli di Riete di Furcone di Amiterno la regione dei Marsi e il loro lago chiamato Fucino credo che anche la regione dei Marsi si debba considerare parte della provincia Valeria poiché non è stata iscritta dagli antichi nel catalogo delle province d'Italia se però qualcuno potrà dimostrare con validi argomenti che questa è una provincia a sé si dovrà in ogni modo tener conto di questo motivato parere la quattordicesima è considerata il Sannio fra la Campania il Mar Adriatico e la Puglia e è inizio dal fiume Pescara vi sono le città di Chietti Aufidena Isernia Sannio ormai consunta dalla sua antichità da cui prende il nome tutta la provincia è la capitale di queste province la ricchissima Benevento i Sanniti presero il nome dalle lance che erano soliti portare e che i greci chiamavano Sainia la quindicesima provincia è la Puglia unita alla Calabria nella quale si trova la regione Salentina a ovest o meglio a sud ovest ha il Sannio e la Lucania a oriente è chiusa dal Mar Adriatico a città molto opulente come Lucera Seponto Canosa a Gerenzi a Brindisi tanto e sul corno sinistro dell'Italia che si stende per 50 miglia o tanto centro di commercio il nome a Puglia deriva dalla perdizione dalla perdizione infatti assai rapidamente per la vampa del sole le erbe e gli alberi vengono distrutti è interessante il fatto che si parli per quanto riguarda di Puglia Brindisi e Tanto quindi non sto dicendo una cazzata la Puglia che veramente è la nostra Puglia la chiama corno sinistro come se Paolo Diacono descrivesse l'Italia dando le spalle alle Alpi ci sono due possibilità o sta descrivendo l'Italia come appariva ai Longobardi quindi i Longobardi che sono sulle Alpi guardano la penisola e quindi la Calabria è a destra e la Puglia è a sinistra oppure che credo sia il caso in realtà sta considerando oddio in realtà dovevo prestare in realtà no potrebbe essere semplicemente la storia dei Longobardi che sono posti sulle Alpi e quindi oppure l'altra alternativa è che lui consideri il centro dell'Italia e Roma e che quindi guardandosi tutto attorno si gira verso appunto la Puglia e la Puglia essendo Roma a nord risulta a sinistra e la Calabria a destra questo per dire che le cartine di Paolo Diacono non erano orientate verso nord sedicesima provincia è considerata l'isola di Sicilia che è bagnata dal Martireno e dallo Ionio e prende il nome da un suo condottiero siculo come diciassettesima è posta la Corsica diciottesima la Sardegna l'una e l'altra sono circondate da ogni parte dal Martireno la Corsica è così chiamata dal suo condottiero corso la Sardegna da Sardi figlio di Ercole è certo tuttavia che gli antichi scrittori chiamarono Gallia Cisalpina la Liguria una parte della Venezia l'Emilia e la Flaminia per questo il grammatico donato nel commento a Virgilio dice che Mantova è in Gallia e sempre in Gallia nella storia romana si legge che è posta Rimini in vero in tempi antichissimi Brenno re dei Galli che regnava nella città di Senona i Galli Senoni per l'appunto con 300.000 galli Senoni lo ha detto anche Paolo Diacono veniva venne in Italia e la occupò fino a Senigallia che fu chiamata così dai Galli Senoni ah beh perché poteva anche chiamarsi così dai Cimri non lo so questo è indicato come il motivo per cui i Galli vennero in Italia assaggiarono del vino portato dall'Italia e l'avidità di esso li spinse a trasferersi in questa terra di essi questa dovrebbe essere una citazione a Giustino ok questa è una citazione a Giustino da cui Paolo prende questa notizia in realtà confonde diverse spedizioni dei Galli ok di essi centomila di essi centomila mentre si allontanavano da Delfo poco lontano furono sterminati dalle armi dei Greci altri centomila entravano in Galazia e da prima furono chiamati Gallo Greci poi Galati Galati le guerre dei Galati e sono quelli a cui il dottore delle genti Paolo scrisse la sua epistola centomila Galli invece che rimasero in Italia fondando la città di Ticino fondando la città di Ticino Milano Bergamo Brescia diedero il nome alla regione della Gallia Cisalpina questi sono i Galli Senoni che una volta invasero la città di Romolo infatti come chiamiamo Gallia Transalpina quella che è al di là delle Alpi così chiamiamo Gallia Cisalpina quella che si trova al di qua delle Alpi anche l'Italia che comprende tutte queste province prese il nome da Italo condottiero dei Siculi che la occupò nei tempi antichi oppure è detta Italia perché in essa vi sono grandi buoi cioè Itali dal termine Italus nato per diminuzione ossia se si aggiunge una lettera e se ne muta un'altra viene fuori Vitulus Vitello l'Italia è chiamata anche Ausonia da Ausono figlio di Ulisse da prima fu chiamata con questo nome la regione di Benevento in seguito tutta l'Italia fu chiamata così l'Italia è anche chiamata Lazio per la ragione che Saturno fuggendo da suo figlio Giove in essa avrebbe trovato rifugio dunque dopo che si è detto quanto basta delle province del nome dell'Italia finito il pippone entro i confini della quale furono compiute le imprese che descriveremo ritorniamo al filo della nostra storia penetrato in Liguria all'inizio della terza indizione il 3 settembre al tempo dell'arcivescovo onorato Alboino entrò in Milano quindi conquistò tutte le città della Liguria eccezione fatta per quelle che sono poste sulla riva del mare l'arcivescovo onorato allora abbandonando Milano si rifugiò a Genova il patriarca Paolo che aveva compiuto 12 anni di sacerdozio fu sottratto a questa luce e lasciò a reggere la chiesa Probino la città di Pavia resistette valorosamente per oltre tre anni sopportando l'assedio con l'esercito dei Longobardi accampato non lontano da essa nel settore occidentale frattanto Alboino cacciando ovunque i soldati dilagò per ogni parte fino alla Toscana esclusa Roma e Ravenna e alcune fortezze che erano poste sulla riva del mare né i Romani avevano il valore sufficiente a resistergli poiché la pestilenza scoppiata sotto un'arsete aveva fatto strage in Liguria e nella Venezia e dopo quell'anno di abbondanza del quale abbiamo parlato una grave carestia salì d'Italia devastandola tutta in più è certo che Alboino aveva condotto con sé una moltitudine di gente presa da stirpe diverse che altri re o lui stesso avevano sottomesse onde ancora oggi noi chiamiamo molti villaggi con i nomi di coloro che li abitano gepidi bulgeris armati pannoni suevinorici o altri di questo genere ma la città di Pavia dopo aver sopportato tre anni e alcuni mesi di assedio alla fine si consegnò ad Alboino e ai Longobardi che la assediavano e mentre Alboino entrava in essa dalla porta detta di San Giovanni nella parte orientale della città il suo cavallo stramazzò in mezzo alla porta e benché incitato con gli speroni del re benché percorso da una parte e dall'altra a colpi d'asta non riusciva ad alzarsi allora uno degli stessi Longobardi così si rivolge al re ricordati o mio re e signore quale voto hai fatto infrangi quel voto così spietato ed entrerai nella città infatti il popolo di questa città è veramente cristiano Alboino aveva fatto voto di sterminare per intero quel popolo perché non aveva voluto arrendersi ma non appena rompendo il suo voto ebbe promesso indulgenza ai cittadini subito il suo cavallo si rialzò ed egli entrato in città senza recar danno ad alcuno mantenne la sua promessa allora tutto il popolo accorse da lui e nel palazzo che un tempo aveva fatto costruire il reteodorico e dopo così grande miserie riprese la fiducia cominciò a sollevare l'animo nella speranza per il futuro questo re dopo che ebbe regnato in Italia tre anni e sei mesi fu ucciso per le trame della moglie e questa e questa ne fu la causa mentre in Verona sedeva con vita allegro più del dovuto ordinò che la regina fosse portato da bere del vino nella coppa che lui aveva tratto dal canio del suocero il re cunimondo e la invitò a brindare lietamente con suo padre perché a qualcuno ciò non sembra impossibile affermo in nome di Cristo che è la pura verità io stesso in un giorno di festa ho veduto il re Erachis tenere in mano questa coppa per mostrarla ai suoi convitati quando Rosamunda se ne accorse le nacque in cuore un dolore profondo che non riusciva a placare e si infiammò del desiderio di uccidere il marito per vendicare la morte del padre e con il micchi che del re era scilpo cioè scudiero e il fratello di latte preparò un piano per sopprimere il re ricordo abbiamo letto questo passaggio a storia medievale nel 2018 e io feci la domanda alla professoressa cosa significasse fratello di latte perché immaginavo cosa potesse significare ma volevo esserne certo fratello di latte ovviamente significa che sono i figli o meglio sono stati accuditi non dalla stessa madre ma dalla stessa nutrice quindi madre diverse stessa nutrice e il micchi la persuasa a far entrare nel complotto peredeo che era uomo assai forte poiché questi per quanto la regina tentasse di persuaderlo non voleva consentire a così grande impietà ella una notte si mise nel letto di una sua ancella con la quale peredeo aveva una relazione entrato nel letto peredeo ignaro della cosa giacque con la regina e quando poi consumata la sceleratezza ella gli chiese chi pensasse che fosse e lui le fece il nome della sua amante con la quale cadeva di trovarsi la regina replicò non è come credi sono rosmunda e aggiunse hai commesso un'azione tale che o tu ucciderai al boino o al boino con la sua spada metterà te a morte egli allora si rese conto del male che aveva compiuto e se per sua libera scelta mai l'avrebbe voluto costretto in tal modo a uccidere il re diede il suo assenso allora rosmunda quando nel meriggio al boino si fu assopito dato ordine che nel palazzo si facesse un grande silenzio sottratta ogni altra arma legò saldamente la sua spada a capo del letto perché non si potesse né prendere né estrarre dalla vagina e secondo il piano di Elmichi introdusse più feroce di ogni belva peredeo l'uccisore al boino destatosi all'improvviso dal sonno intuita la sventura che incombeva stese rapido la mano alla spada non riuscendo a estrarla perché era legata troppo saldamente afferrò uno sgabello da piedi e si difese per qualche tempo con esso ma ahi dolore quel guerriero così valoroso di un'audace estrema nulla potendo contro il suo nemico fu ucciso come uno incapace di portare armi e per l'intrego di una sola donna misoginia lui che ovunque era conosciuto per le tante stragi di nemici e in guerra di nemici in guerra il suo corpo tra il grandissimo pianto e i lamenti dei longobardi fu sepolto sotto le rampe ed una scala contigua al palazzo fu alto di statura conformato in tutto il suo corpo a fare la guerra ai nostri giorni Gisel Petro che era stato il duca di Verona aperto il suo sepolcro ne sottrasse la spada e quanto trovò dei suoi ornamenti per questo con la vanità che è solita tra gli ignoranti si vantava ad aver veduto al boino il mici ucciso al boino cercò di impadronirsi del suo regno ma non potè perché i longobardi molto dolendosi della morte del re tramavano per ucciderlo subito Rosmunda mandò a dire a Longino prefetto di Ravenna che inviasse al più presto una nave per accogliere lei e del mici Longino contento di queste notizie mandò in fretta una nave sulla quale il mici e Rosmunda ormai sua moglie si imbarcarcarono a nottetempo così fuggirono portando con sé al bisunda figlia del re e tutto il tesoro dei longobardi e giunsero in tutta fretta a Ravenna allora il prefetto Longino cominciò a convincere Rosmunda a uccidere il mici e a unirsi in matrimonio con lui ella propensa come era ogni iniquità si lusingava di divenire la signora di Ravenna e diede il suo consenso a perpetrare un così ribido delitto un giorno che il mici si lavava nel bagno quando egli uscì dall'acqua gli fece bere una tazza di veleno dicendo che era una medicina che più o meno è giusto cioè soltanto che la medicina è un veleno con la giusta dose come il mici si accorse di aver bevuto la coppa della sua morte snudata la spada sopra Rosmunda la costrinse a bere ciò che vi restava così per giudizio di Dio Onnipotente i due malvagi assassini morirono nello stesso istante sarebbe un bel momento per far concludere la narrazione ma mancano letteralmente tre paragrafi alla conclusione del libro secondo quindi andiamo avanti uccisi in tale modo costoro il prefetto Longino mandò all'imperatore a Costantinopoli al Bisunda insieme al tesoro dei Longobardi alcuni affermano che insieme a Rosmunda e al mici a Ravenna fosse giunto anche per Edeo infatti mi stavo chiedendo che fine avesse fatto per Edeo inviato con al Bisunda a Costantinopoli in uno spettacolo popolare davanti all'imperatore avrebbe ucciso un leone di straordinaria grandezza narrano pure che per timore che macchinasse nella cittareggia qualche misfatto considerate la sua grande forza per ordine dell'imperatore gli furono cavati gli occhi dopo qualche tempo egli si adattò a due coltelli si adattò e si nascò e nascosto si adattò nel senso che li ruba e nascosto ne uno per manica si diresse a palazzo e promise che se lo avrebbero introdotto all'imperatore gli avrebbe riferito cosa che gli sarebbero giovate l'imperatore mandò due patrizi che erano suoi stretti collaboratori per ricevere le sue rivelazioni quando essi furono davanti a Peredeo questi come intendesse dire qualcosa ancora più in segreto si avvicinò di più a loro e afferrate una per mano le spade tenute nascoste li colpì entrambi con tale violenza che subito stramazzarono la terra e spirarono così per certi aspetti ben simile al fortissimo Sansone vendicò i toti ricevuti e in cambio dei due occhi perduti uccise due uomini utilissimi all'imperatore poi immagino sarà stato scannato però come Sansone in Italia già no Sansone è crollato addosso al palazzo lui sarà stato scannato in Italia tutti i longobardi riuniti a Pavia con decisione unanime si diedero come re Clefi nobilissimo tra i suoi questi uccise di spada molti potenti romani altri li cacciò dall'Italia dopo un anno e sei mesi che regnava insieme a Masane sua moglie fu sgozzato con un colpo di spada da un giovane del suo seguito e qui iniziano si inizia l'anarchia 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 del ducale dopo la sua morte per dieci anni i longobardi senza più avere un re furono sottomessi ai duchi ciascuno di essi infatti governava una città Zaban, Pavia Wallari Bergamo Alichis Brescia Evin Trento Gisulfo Cividale ma oltre a questi ci furono altri trenta duchi ognuno in una propria città in questo periodo molti nobili romani furono uccisi per Cupidigia delle loro ricchezze gli altri spartiti fra i conquistati fatemi vedere che termine usa per dire Cupidigia Gli altri spartiti fra i conquistatori furono fatti tributare perché pagassero ai longobardi la terza parte dei loro accolti per opera di questi duchi al settimo anno della venuta di Alboino e di tutto il suo popolo furono spogliate le chiese uccisi i sacerdoti rase al suolo la città sterminate le popolazioni che hanno cresciute come le messi e gran parte dell'Italia escluse quelle regioni che aveva conquistato Alboino fu posta sotto il gioco dei longobardi fine del libro secondo io direi che noi ci sentiamo sarebbe bello se riuscissi per Natale a registrare un episodio questo perché chiaramente la live per Natale sarà un po' impossibile anche questo episodio che è stato registrato probabilmente registrarò anche il prossimo se tutto va bene lo faccio uscire a Natale se non va bene lo faccio uscire da qualche altro giorno su Twitter su Twitter saprete quando seguitemi su Twitter iscrivetevi al canale YouTube attivate le notifiche la campana link noi ci sentiamo la prossima volta quando leggeremo il libro terzo molto bello il libro secondo mi è piaciuto veramente tanto è piaciuto